L'inchiesta relativa alle plusvalenze venuta a galla grazie alla Procura della Repubblica di Torino e che mira a metterne in luce l'utilizzo esagerato per cercare di coprire eventuali difficoltà di bilancio vede anche il Pescara tirato in ballo, soprattutto in relazione ad una serie di operazioni di mercato con il Parma che sarebbero finite sotto la lente di ingrandimento della Commissione della Covisoc. Tante e articolate le operazioni fra le due società nelle ultime sessioni di mercato. Quello delle plusvalenze, come più volte ribadito in questi anni, è un tema molto complesso e che ha fatto molto discutere nelle ultime stagioni proprio per la difficoltà nello stabilire un parametro chiaro che assegni un valore di mercato ai calciatori, spesso più giovani, che vengono scambiati tra i vari club. Tornando all'asse tra Pescara e Parma, in uscita dal club Ducale per arrivare in Biancazzurro, ci sono stati Cristian Galano, oggi ancora a Pescara, e che il Delfino ha acquistato per 2 milioni di euro. Percorso inverso in quella circostanza fecero Pavone e Martella, che si trasferirono in Emilia per 1.800.000 euro il primo e 500.000 euro il secondo. Ma non solo loro, oltre i già citati, ci sono Matteo Brunori, che oggi gioca nel Palermo, e che i Biancazzurri presero nell'estate 2019 dal Parma. Esperienza che finì temporaneamente a gennaio 2020, dopo sei mesi con il passaggio alla Juventus Under-23. C'è anche Macin, che oggi gioca in cadetteria Monza e che arriva all'Adriatico, è arrivato a titolo definitivo dalla Roma, ma che il Delfino cedette i gialloblu prima di farselo ridare in prestito ad agosto 2019 e rispedirlo a Parma nel gennaio 2020. Altri casi sono quelli che riguardano Gaston Brugman, passato dal Biancazzurro agli Emiliani per 2 milioni e mezzo di euro, Napoletano, Cipolletti, Daloia, Madonna. La Covisoc, commissione di vigilanza sulle società di calcio, sfruttando le verifiche avviate a luglio dalla Consob, ha inviato al procuratore e al presidente, gravina per conoscenza, un dettagliato resoconto sui trasferimenti, perché, questa è la tesi, certi affari potrebbero aver inciso in maniera significativa sui conti delle varie società coinvolte. Insomma, un pensiero in più per una squadra uscita ancora una volta con una delusione dall'ultimo turno di campionato e che a Grosseto, senza rizzo e drudi squalificati, deve trovare un risultato positivo per scacciare le voci che vorrebbero Auteri, sempre più in bilico, con Oddo pronto a prendere il posto in caso di ulteriore risultato negativo.